Buonasera a tutti che ci seguono da casa e buonasera naturalmente, ringraziamo naturalmente i nostri ospiti Dino Messina e Giuseppe Monsagrati. Abbiamo fatto da poco un incontro con Dino sul suo libro e da quell'incontro poi è nata l'idea di presentare anche il libro di Giuseppe Monsagrati che arriva dopo lì a quest'ora in terra e di mare. Allora, dico due parole sui nostri ospiti di questa sera. Giuseppe Monsagrati è uno dei maggiori esperti di storia del risorgimento italiano, professore ordinario di storia del risorgimento all'Università di Roma alla Sapienza. è stato redattore del dizionario biografico degli italiani dove ha diretto la sezione di storia contemporanea. Tra i temi della sua ricerca il principale è quello relativo all'area democratica del risorgimento su cui ha pubblicato molti volumi e varie biografie. Tra l'altro, tre volumi del episodio di Garibaldi e una lunga serie di studi sulla Repubblica Romana del 49. Dino Messina è giornalista del Corriere della Sera dove per molti anni ha collaborato con la redazione Cultura, autore a sua volta di molti saggi e insomma parte il saggio che abbiamo presentato qualche giorno fa, qualche settimana fa, ricordo, c'eravamo tanto odiati, interviste parallele con il partigiano Rosario Ventivenga e il repubblichino Carlo Marzantini sugli anni della guerra civile italiana, poi salviamo la Costituzione italiana, il tema che dominerà la nostra giornata politica, italiani due volte dalle foibe all'esodo una ferita nella storia italiana. Attualmente collabora con il Corriere della Sera e sul sito del Corriere della Sera dirige il blog storico La Nostra Storia. Io do immediatamente la parola a Dino per la presentazione del libro. Grazie, grazie, buonasera e complimenti a Paola Cioni per la sua attività di direzione dell'Istituto di Cultura di San Pietroburgo e al professor Monsagrati per questo bellissimo saggio Garibaldoboli e altre storie di terra e di mare, edito da Rubettino, che è davvero una sorpresa, perché come vi dicevo una volta uno storico, e come spesso gli storici scrivono, ci sono alcuni storici che vanno dalla foglia, cominciano dalla foglia per descrivere e poi alla foresta. E qui è il caso di dire di Monsagrati, descrive il professor Monsagrati, che è uno dei più autorevoli storici della storia del risorgimento italiano, parla di un aspetto apparentemente marginale della nostra storia unitaria, in particolare di personaggi che si aggiravano attorno a Giuseppe Garibaldi, e ci fa capire tutto un mondo, tutto un mondo al di fuori di quello che di solito si apprende, si studia dei grandi personaggi. Cioè c'era tutto un brulicare di persone attorno a Garibaldi, attorno ai grandi protagonisti del risorgimento, che si apprende da queste pagine di Garibaldopoli e altre storie di Terre di Mare, che è edito, ripeto, è edito da Rubettino, e che ci fa entrare in quel mondo e ci fa conoscere quei personaggi che ruotavano attorno alle imprese del generale Nizzardo. Una coinè di patrioti, di idealisti, ma anche una comunità in cui capitavano affaristi, approfittatori, opportunisti, mossi da nessun altro ideale che quello di far fruttare la conoscenza con il grande personaggio, con il grande condottiero che era, cioè Garibaldi, basta leggere una delle tante biografie, particolarmente quella di Monsagrati, ma anche altre, tante altre per capire che Garibaldi era forse la persona, in certi anni è stata la persona più conosciuta del mondo occidentale, cioè era una vera star, basta vedere l'accoglienza triunfale che gli tributò Londra, un'accoglienza tanto triunfale per un personaggio come Garibaldi a mettere in difficoltà e in imberazzo la stessa regina. E quindi tutti quelli che lo conoscevano, ed erano tanti, avevano desiderio a volte, talvolta, di far fruttare questa conoscenza. A volte l'opportunismo e il sentimento patriotico ci fa capire i Monsagrati a proposito del principale personaggio che fa da filo conduttore dei quattro episodi che ci descrive, il sentimento patriotico coesisteva con l'opportunismo, cioè non è che una persona è tutta opportunista, può essere anche l'idealismo, le idee possono andare anche con gli affari. Dipende come. Il libro del professor Monsagrati ha il triplo pregio della chiarezza, non rigiunta da una dose di ironia, che è una prosa ironica talvolta, della passione e del rigore. Ci parla di quattro episodi della vita di un imprenditore di origine genovese, Luigi De Negri, che era stato ufficiale dell'esercito meridionale di Garibaldi al seguito della spesizione guidata dal generale Enrico Cosens. Qui voglio fare una parentesi, Monsagrati è il maggiore esperto italiano di Cosens, qui ha dedicato ampi studi, quindi c'è una linea anche in questo. Aveva collaborato questo Luigi De Negri, Agostino Bertani, che era il personaggio che aveva il ruolo maggiore nella logistica della spedizione dei Mille e De Negri procacciava delle merci, collaborava la logistica della spedizione, compresa la fornitura di quei famosi fucili a canna rigata. Il fucile a canna rigata, per chi ci ascolta, è un fucile di precisione che va a un tiro molto lontano ed era per l'epoca una novità, non era un fucile a palla unica, a canna liscia, che aveva una gittata e una precisione inferiore. E comunque lui aveva le mani in pasto anche a questo. Io ricordo di aver letto in altre biografie che 200 fucili a canna rigata promessi a Garibaldi non gli arrivarono mai, ma questo per un'opposizione interna al risorgimento italiano. Mi sembra che ci fosse lo zampino di Massimo Danzeglio che negò questa fornitura. Era una fornitura che doveva arrivare da Milano. Non so se in questo caso si trattava degli stessi fucili, ma questo poi il professor Monsagrati ce lo spiegherà dopo. Durante la sua militanza Garibaldina era stato accusato di aver rubato un cavallo al generale Medici e di freggiarsi di un grado militare, quello di colonnello che in realtà lui non aveva mai raggiunto. Lui era un sottotenente, però aveva partecipato, effettivamente aveva partecipato alla spedizione all'impresa nel sud e aveva costituito abbastanza, aveva accumulato crediti e conoscenze per lanciarsi in un'impresa che è quella che il professor Monsagrati descrive nel primo dei quattro episodi di cui si compone Garibaldopoli e altre storie di Terre di Mare, cioè la costituzione del Comitato per la Spada d'Onore a Garibaldi, che in pratica era un comitato che faceva concorrenza al comitato principale, al comitato di Bertani, e faceva concorrenza al comitato di Bertani, e però era ritenuto un'opportunità non soltanto dallo stesso promotore, anzi dagli stessi promotori, ma era ritenuto un'opportunità dallo stesso Garibaldi all'inizio, perché più fonti arrivavano per il finanziamento, dobbiamo tener conto che nel 1860-61 non è che sono finite le imprese di Garibaldi, c'è ancora Roma, c'è ancora Venezia e soprattutto, e poi c'è tutta l'Europa, c'è tutta l'Europa in ebollizione, ci sono i Balcani, c'è l'Ungheria, e Garibaldi veniva tirato, avrebbe detto Di Pietro, per la giacchetta da tutte le parti. Quindi assieme a questo signore Luigi De Negri, entra in scena un altro personaggio che conosce casualmente Garibaldi, cioè Alessandro Salvati. Alessandro Salvati era un giovane che viene convocato da Alexandre Dumas, come sappiamo tutti, dopo aver fatto visita, dopo essere arrivato a Palermo con la sua goletta Emma, portando dei fucilini ridicoli, irrisibili, a Garibaldi, che invece era molto interessato dall'accompagnatrice, della compagnatrice di Diuma, si posizionò nel Golfo di Napoli, a largo del Golfo di Napoli, per le sue imprese editoriali, compreso un giornale che aveva un certo successo, e anche per fare da informatore a Garibaldi. Infatti convocò questo giovane, Alessandro Salvati, con l'incarico di portare una lettera a Garibaldi per ragguagliarlo della situazione politica di Napoli e per attendere indicazioni dallo stesso Garibaldi sul da farsi. E quindi questo giovane, questo Salvati, venne accolto molto bene da Garibaldi e Garibaldi si lasciò andare anche a dei commenti, gli disse, raccomandò di non fare insurrezioni armate senza la sua assenza e raccomandò anche la figura di Cosenz quale governatore di Napoli in quelle prime settimane e in quei primi mesi. quindi Salvati torna a Napoli con tutti questi messaggi e soprattutto con il bagaglio di aver conosciuto il generale Garibaldi. I due Salvati e De Negri, uso l'espressione molto azzeccata del professor Monsagrati, si entrano in contatto nelle retromie del garibaldinismo, nelle retromie non si sa come, si conobbero, e concepirono quest'idea di un comitato per la sottoscrizione volontaria alla spada d'onore, sciabole e revolver, carabina e sussidi per la guerra del generale Giuseppe Garibaldi. cioè per armare Garibaldi in qualsiasi impresa, non solo nelle imprese italiane, ma anche nelle imprese per l'indipendenza dell'Ulgeria, per l'insurrezione dei Balcani. Garibaldi, ci avverte Monsagrati, aveva già autorizzato De Negri Salvati alla fondazione di un istituto Garibaldi per la costruzione di macchinari, di arte e mestieri, che poi non si sa che fine fa questo istituto. Però questo è un pretesto, è una garanzia per far nascere questo comitato per raccogliere fondi. Cioè il metodo usato da questi era raccogliamo dei fondi e poi vediamo come impiegarli. Quindi l'impresa parte nel febbraio del 1861, ci sono sedi a Firenze, Livorno, Grosseto, Foggia, però presto si diffonde la voce che De Negri è un approfittatore, si diffondono tutte quelle voci che ho già detto prima. E la cosa finisce, abortisce molto presto, insomma, bisogna leggere i particolari del bellissimo racconto di Monsagrati, e la cosa finisce a processo, addirittura finisce con l'arresto di De Negri e di un generale unganese, Sandor Gall, che anche lui aveva partecipato a questa impresa e che aveva, in cui Monsagrati documenta, per cui erano stati spesi 13.000 Ducati, che al cambio con la lira il Ducato valeva 4,25, e poi alla fine De Negri viene scarcerato, Salvati scappa e sembra che riesca a bugerare anche De Negri, però De Negri cerca di ricostituire una verginità politica, come si dice, però non rinuncia a chiedere 2.000 Ducati di spese, cioè avevano messo in presa, avevano messo in piedi una grossa, una struttura organizzativa con 17 dipendenti, diverse sedi, eccetera, avevano speso un sacco di soldi e alla fine De Negri chiede ancora le spese. Comunque la cosa sfuma, finisce lo scandalo e De Negri, che era genovese, e che a quel punto si era definitivamente trapiantato a Napoli, fa un secondo tentativo di far fruttare il nome di Garibaldi. E' il secondo episodio raccontato da Monsagrati, che dà il titolo a volume, ed è quella di far nascere una città intitolata al grande generale, Garibaldopoli. Dove era sta Garibaldopoli? Garibaldopoli era un paese, il vecchio borgo di Galatro, che era stato distrutto da un terremoto alla fine del 1793, che era stato ricostruito in una zona malsana, eccetera, e di farlo, di ricostruirlo su un altopiano più salubre. E qui ho apprezzato molto lo sforzo cronistico di Monsagrati, che è andato, non ha trovato soltanto i documenti di archivio, ma è andato a Galatro, è andato a vedere il sito dove doveva sorgere la nuova città, che prevedeva non solo delle case ecologiche di concezione moderna, delle case non molto alte e quindi antisismiche, in un sito che vedeva tutta la piana con, che prevedeva strade sia verso lo Ionio sia verso il Tirreno, e che prevedeva anche delle terme. e che sembra che ci siano oggi insomma queste terme, queste in alcune, e Monsagrati ricollega nel racconto ieri e oggi. Ma come in questa, io adesso non mi dilungherò troppo se no prendo tutto lo spazio, ma è godibilissimo questa cosa, perché sembrano due piccari questi che sono capitati, due personali, no, più di piccari, però insomma due personaggi molto, il meccanismo di De Negri era il seguente, quello di raccogliere finanziatori prima di cominciare prima di cominciare l'impresa, di raccogliere finanziatori. Poi naturalmente questa città che aveva un comitato aveva un comitato di residenti, di quotisti che devono essere i primi abitanti, eccetera, non si riesce a fare perché non si trovano i giusti, i dovuti finanziamenti e addirittura De Negri alla faccia tosta alla fine di chiedere a Garibaldi senti, ma non è che potresti indicarci tu le banche di tua fiducia che possano fare da garanzia. Naturalmente Garibaldi a quel punto capisce e non risponde perché uno per quanto possa essere lusingato non era uno stupido Garibaldi. Adesso io mi fermerei qui perché il racconto va avanti sulle imprese di De Negri, sulle pescicolture, sull'isola della Gaiola che ha una fama un po' iettatoria e le altre imprese di De Negri. Però tutto questo racconto e questo episodio mi fa, io vorrei rivolgere delle domande al professor Monsagrati su questo e anche un po' allargare il quadro. Se queste figure come De Negri Salvati che lei in maniera così divertente descrive erano delle eccezioni in quegli anni di cambiamento o erano un pochettino se ne trovano diversi di questi soggetti. tocca a me rispondere è finita la domanda io ringrazio prima di tutto ringrazio Paola Cioni per l'organizzazione di questa presentazione mi fa molto piacere parlare di questa impresa editoriale chiamiamola così quasi una ripetizione di quello che faceva De Negri anche io ho dato come prodotto diciamo così che poteva avere un suo successo in libreria una storia di per sé esile diciamo la verità perché questa è una storia basata un personaggio singolo che è Luigi De Negri che si arrangia è uno dei progenitori dell'arte di arrangiarsi in un'Italia povera e soprattutto in un sud dove non circola molto denaro e dove presto molti saranno costretti all'emigrazione perché l'unità d'Italia non manterrà le promesse iniziali di benessere per tutti in un sud povero De Negri l'aspetto divertente secondo me della versione è che questo genovese va a Napoli per esercitare poi questa arte diciamo così della truffa o comunque sia della finzione del dare a intendere cose che non ci stanno ecco proprio a Napoli trovare un personaggio del genere è quasi divertente no? perché i napoletani sono famosi no? per inventare anche loro l'arte di arrangiarsi e qui trovano qualcuno che fa anche una certa fortuna perché appunto si inventa ha una grande inventiva ha una capacità di come dire di riproporsi dopo ogni insuccesso quindi fallisce il comitato della spada d'onore anzi ci sono delle conseguenze di carattere giudiziario e non fa niente subito dopo ci inventiamo Garibaldipoli fallisce Garibaldipoli non importa mettiamo appunto l'invenzione della pescicultura cioè della cultura vivaistica della creazione dei vivai e anche qui sono come dire percorsi che sui quali De Negri si mette perché vuole proporre qualcosa di nuovo vuole in qualche modo stupire quelli che vivono a Napoli ma anche quelli che vivono fuori dell'Italia addirittura riceve degli attestati di come dire capacità imprenditoriale dalla Francia dove la pescicultura è una cosa seria la pescicultura era allora alle primarmi di che cosa si trattava poi di creare dei bacini per bacini marini per ma anche la Pusti per esempio il lago del Fusaro lui ragiona sempre in grande si guarda intorno vede quello che c'è e lì scatta la sua fantasia creativa e questa fantasia creativa applicata a Napoli è quella della fiscicultura che all'epoca appunto pensate che addirittura a Milano Cattaneo propone l'istituzione di una cattedra proprio perché si vede il potenziale come dire speculativo della cosa non solo speculativo ma produttivo cioè tu eviti la pesca la giustificazione che dava De Negri qual era evitare la pesca come dire diffusa tra migliaia di pescatori i quali saccheggiavano il litorale tirreno all'altezza di Napoli invece di appunto depredare il fondo marino di tutta la sua popolazione ittica creare dei bacini su cui allevare questo pesce lui addirittura pensava di allevare addirittura anche il merluzzo che mi risulta essere un pesce da mari freddi da mari freddi però appunto nella sua fantasia tutto si poteva fare e questo era un po' il lato come dire geniale della sua personalità che però non si sgiungeva mai poi dal lato truppalpino ovvero se non lo vogliamo offendere se vogliamo essere meno brutali dal lato spericolato diciamo della cosa quindi perché spericolato perché i suoi sogni andavano sempre oltre alla realtà non riuscivano mai a collimare con quella che era poi la realtà con cui si misurava l'ultima impresa che tenta la Baia di Assab approfittando del fatto che l'Italia si stava proiettando verso il Mediterraneo come vedete è un personaggio che segue le vicende del paese le fortune del paese e cerca di piazzarsi in qualche modo sulla scia di queste fortune che sono più sperate che realizzate poi in sostanza perché la stessa avventura italiana nel Mar Rosso si conclude in maniera abbastanza discutibile insomma un investimento che rende pochissimo che parte dall'acquisto della Baia di Assab che era stata comprata in precedenza da Rubattino e su cui dovrebbe verificare dovrebbe avere luogo una speculazione per l'estrazione del sale e altre cose però che succede che la zona è troppo distante non ci sono scali marittimi funzionali e quindi tutto resta un po' così nel vago tutto resta più nel progetto che non nella realizzazione però ecco questo è il personaggio è il personaggio che sta all'interno di questo mondo garibaldino qual è la cosa che va sottolineata che il mondo garibaldino è un mondo serio un mondo fatto di appunto reduci e veterani che si associano che come dire creano società di veterani appunto società di reduci delle patrie battaglie cercano quasi di sindacalizzare questo movimento garibaldino per ottenere dallo Stato il come dire quello che questa gente che si è offerta come volontari che molte volte ha lasciato la vita sui campi di battaglia pensa di meritarsi De Negri è proprio atipico il confronto rispetto a questa umanità garibaldina perché mentre questa umanità garibaldina resta comunque legata all'ideale della libertà dei popoli all'ideale della democrazia dietro ogni garibaldino c'è sempre un sognatore ma non di affari un sognatore di imprese un sognatore di libertà De Negri da questo punto di vista è garibaldino come dire con le sue origini va bene e levanta molto queste origini ma poi in realtà si distacca molto voi se andate a vedere le storie delle camicie rosse per esempio il bel libro di Eva Cerchinato che è appunto dedicato a 160 e non lo trovate De Negri non trovate De Negri e non trovate soprattutto questa come dire linea affaristica questa linea speculativa sono personaggi quelli che vengono dal mondo garibaldino che si dedicano al giornalismo si dedicano alla politica si dedicano anche agli affari ma in maniera in maniera molto più come dire normale diciamo così molto meno avventurosa molto meno spericolata molto meno affaristica più affari come dire tirati via tirati fuori col sudore della fronte che non appunto inventandosi sistemi di finanziamento che quasi sempre come dire fanno leva sulla buona fede oppure sul nome di Garibaldi la grande invenzione di De Negri è quella di capire che il nome Garibaldi è un brand si direbbe oggi è un brand è certo di per sé ha un suo valore di per sé ha un suo valore beh ma se pensiamo a tutta a tutta la produzione di gadgets legati in Inghilterra o anche nel resto d'Europa legati al nome di Garibaldi negli anni 60 in Europa viene commercializzata una marea di oggetti di oggetti memorabili souvenir ma anche prodotti di consumo legati in cui compare la figura di Garibaldi perché la figura di Garibaldi fa vendere va bene quindi questo però non lo fanno i Garibaldini lo fanno i capitalisti che hanno i soldi per appunto la marca di biscotti che viene venduta in Inghilterra col nome di Garibaldi è fatta da un produttore di biscotti ma così tanti altri prodotti oppure le ceramiche che vengono fatte con la figura di Garibaldi sono fatte da ceramisti ma non c'è questo aspetto invece del tutto avventuroso che Delegri mette in piedi quindi la vicenda è quella che ruota intorno a questo personaggio ed è stata una vicenda non facile da ricostruire e spiego subito perché perché a parte la documentazione su Garibaldipoli che ho trovato all'archivio del museo del risorgimento grazie alla segnalazione che mi ha fatto l'amico Marco Pizzo che è il direttore del museo a parte questa documentazione il resto è tutto sparpagliato e disperso in vari archivi in varie quindi in particolar modo presso il museo del risorgimento di Milano dove ci sono tutte le carte relative appunto a parte delle carte relative al comitato per la spada d'onore a Garibaldi ma poi altre notizie non si riescono a trovare cioè devo dire anche non come scusante ma tutto questo è avvenuto tra l'altro la chiusura di questo libro che doveva avvenire un anno e mezzo fa dopo alcuni controlli che mi ero riservato di fare a Napoli per esempio e questi controlli sono caduti o sarebbero dovuti avvenire nel momento in cui è scattato il covid quindi per un anno non si è potuto fare nulla io sarei voluto come sono andato in Calabria come ricordava lo ringrazio Messina di questa cosa sono andato in Calabria per vedere il luogo va bene il luogo dove doveva sorgere Garibaldipoli che era effettivamente un luogo meritevole di ogni apprezzamento dal punto di vista ecologico perché stava in alto era bellissimo con un gran panorama e De Negri sognava addirittura con legamenti stradali con l'Oriente con il mare poco mancava che inventasse pure il porto di Gioia Tauro insomma perché ormai si era lanciato nelle proposte avveniristiche e quindi non si fermava più vabbè quindi sono andato lì sarei voluto andare anche a Napoli per verificare nell'archivio di Stato di Napoli l'aspetto come dire processuale sia della vicenda del 61 quella del Comitato della Stata d'Onore che la vicenda del 70 71 dell'isola della Gaiola l'isola della Gaiola è un altro io ho intitolato storie di terra e di mare perché appunto si svolgono in parte in parte appunto a Galadro quindi il lembo estremo della Calabria per intenderci ecco anche questo è qualcosa di significativo io l'ho trovato molto interessante che questo investimento De Negri lo volesse fare nella Calabria povera e abbandonata da tutti sì questo è molto la Calabria era una regione e lo è parte ancora no parte ancora però però perché si il valvino come come dire volontario della spedizione dei Mille lui risale lo stivale attraversato lo stretto lo risale fino a Napoli al seguito di Garibaldi e probabilmente incrocia personaggi del liberalismo e del patriottismo calabrese e con questi e con questi poi si accorda per ottenere la concessione gratuita dei terreni sui quali poi operare questa la costruzione di questo mitico di Resamilia mi è sembrato tanto mi ha fatto tanto pensare a Macondo l'idea di creare un paese di dargli il nome dell'eroe più popolare in quel momento in una terra dimenticata in una terra che gli italiani non conoscevano la gran parte degli italiani non la conosceva la cabbia perché difficilmente si spingevano sotto Napoli anche nei loro viaggi quindi voler fare questo come dire dà l'idea di un personaggio che insomma non rientra nel cliché va bene non rientra nel cliché appunto di quello che si adagia nell'associazionismo caribaldino perché quello non gli basta l'associazionismo caribaldino lo fanno appunto i reduci delle battaglie lui ha le idee molto più ambiziose e quindi allora trovare la documentazione su tutto questo spostarsi da una parte all'altra dell'Italia e poi concentrarsi a Napoli e poi da Napoli puntare addirittura sul Mar Rosso questo è stato prima di tutto per me molto divertente io mi sono devo dire la verità mi scusi che cosa spingeva garibaldi che sicuramente era una persona veduta cioè non era uno spruveduto a dar credito a personaggi così ma garibaldi era tempestato tutti i giorni da richieste che gli arrivava e siccome era un animo generoso soprattutto verso chi aveva combattuto con lui verso chi aveva accettato di rischiare la vita al suo seguito allora aveva ovviamente un ufficio di segreteria che doveva un po' filtrare tutte le richieste che gli arrivavano però come dire il marchio di garibaldinismo l'impronta che uno si portava addosso di essere stato garibaldino di essere stato a contatto addirittura con Alessandro Dumas verso il quale garibaldi aveva un'ammirazione sconfinata Messina giustamente ha ricordato il giornale che Dumas scrive a Napoli bisogna ricordare anche la biografia che Dumas scrive di garibaldi e che fa di garibaldi un uomo noto internazionalmente perché Dumas legge dappertutto non è come la biografia di Giovanni Battista Cuneo che si legge in Italia la biografia di Dumas viene subito tradotta in tutte le lingue e va in America e va in Australia va dappertutto garibaldi diventa un uomo noto a 360 gradi per usare questa espressione proprio perché c'è questa allora se De Negri e il suo complice salvati riescono come dire entrare nelle grazie di Alexandre Dumas nel momento in cui Alexandre Dumas è all'apice della sua popolarità perché ha già scritto i tre moschettieri quindi grande romanziere grande romanziere grande narratore allora questa come dire questo cerchio che si chiude appunto De Dumas salvati De Negri garibaldi è un cerchio che promette tutto quello che può promettere promette tanto di bene perché appunto si tratta di personaggi che hanno un loro appeal esercitano un forte richiamo sulla gente e garibaldi in tutto questo si sente anche abbastanza garantito perché mettere in piedi tutta una organizzazione di questo tipo poi non voglio escludere a priori la buona fede di De Negri probabilmente non è da escludere appunto che De Negri si muovesse inizialmente su una base di se vogliamo di onestà poi la cosa lì il personaggio più come dire più ambiguo è proprio Alessandro Salvati questo giovincello che poi scappa con i soldi diciamo la verità i soldi finiscono si riprende quasi tutti i soldi salvati diciamo in maniera molto concreta eh beh sì ma perché ma perché poi bisognava bisognava assicurarsi un po' l'avvenire perché in quell'Italia si viveva un po' giorno per giorno eh cioè chi non aveva un lavoro non è che lo riceveva non riceveva né né i sussidi non c'era nessun recovery plan non c'era nessuna cosa ognuno doveva saper badare a se stesso e doveva saper pensare a se stesso e quindi Salvati ci pensa in questo modo De Negri tutto sommato cerca di bilanciare come dire l'aspetto eh l'aspetto eh avventuroso della cosa con una sua capacità creativa va bene e quindi questo un po' lo 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 però ripeto è una figura esterna al mondo anche se ne proviene è una figura esterna a quello che è il mondo Garibaldino dopo il 1800 160 che è un mondo che si collega alle società di motosoccorso che è un mondo che si collega alla massoneria io ho il sospetto che anche anche De Negri fosse a suo modo massone va bene perché la massoneria era in tutto l'ambiente liberale insomma era quasi l'iscrizione alla massoneria era quasi un atto dovuto da chiunque si battesse diciamo per la libertà va bene perché la massoneria in quel momento era l'organizzazione che più come dire si entrava sul terreno della lotta per esempio al clericalismo della lotta per esempio alla conservazione politica e sociale della promozione della promozione anche delle attività economiche la massoneria aveva un'organizzazione formidabile quindi stare in questa all'interno di questo mondo era un segnale di appartenenza in dubbio insomma che ripeto per molti chi otteneva una cosa dallo Stato chi ne otteneva un'altra attraverso come dire aiuti politici qualcosa si riusciva per esempio la costruzione delle ferrovie oppure la costruzione dei monumenti è tutta in mano alla massoneria quindi gli artisti si collegano alla massoneria perché così riescano a ottenere le cammese e allora ognuno cerca di ricavarsi come dire il suo spazio va bene il suo spazio vitale chi non ce la fa sarà costretto a emigrare oppure farà una vita molto dura sarà costretto a vivere una vita molto dura ma insomma ci si arrangia ecco io direi che proprio questo libro nasce all'insegna di questo verbo arrangiarsi arrangiarsi quasi come in un film di Totò riuscire a mettere insieme la la va a tirare a tirare fuori una vita decente se possibile con tutti i sistemi che la fortuna mette a disposizione poi anche il passaggio da un mondo a un altro cioè il passio di un paese di un genovese che va a Napoli ma essendo così almeno per me che non sono un esperto così un libro così inaspettato così diciamo originale quali sono a suo viso i punti della biografia se ci sono dei punti della biografia di Garibaldi che ancora vale la pena di tirar fuori che possono riservare delle sorprese guardi la biografia di Garibaldi io credo che sia stata ormai raccontata in tutti i modi possibili e immaginabili prima appunto come ricostruzione delle vicende biografiche vere e proprie va bene dove è nato che cosa ha fatto dove ha combattuto dove è stato che cosa ha fatto in Brasile che cosa ha fatto in Uruguay questo lavoro è stato fatto già subito dopo la morte di Garibaldi è cominciata questa ricerca è andata avanti per decenni va bene poi c'è stata una seconda fase che è stata quella della lettura come dire in chiave di storia culturale del personaggio quindi l'invenzione dell'eroe quindi la messa a fuoco del nazionalismo italiano durante il sorgimento e quindi adesso il fatto portato avanti questo doppio binario va bene di scoperta o di lettura del personaggio Garibaldi io credo che invece lo spazio che resta in cui naturalmente Garibaldi comunque finirebbe per entrare è proprio lo spazio dei Garibaldini cioè quello che su cui non si ha idea ma Garibaldi riesce a portarsi dietro dalla Sicilia 30.000 uomini di questi 30.000 uomini noi conosciamo pochissimo conosciamo le vite e le vite e il modo di pensare la cultura e via dicendo di alcuni personaggi di alcuni di questi personaggi cioè quelli più famosi anche di molti minori però la gran massa dei Garibaldini il loro organizzarsi dopo il 1860 il restare legati a Garibaldi fino al 1870 ancora nel 62 molti lo seguono in Aspromonte la vicenda di Garibaldi si svolge proprio mentre è in atto a cavallo diciamo così quindi anche lì c'è la Calabria c'è il tentativo di portare l'assalto al potere temporale del Papa quindi arrivare fino a Roma c'è l'intervento dell'esercito Reggio che ferma i Garibaldini su Aspromonte e quella è come dire dopo l'impresa dei Mille è la prima manifestazione della presenza di Garibaldi sulla scena italiana poi ci sarà la seconda altrettanto con un esito altrettanto sfortunato che è quella di Mentana dopodiché Garibaldi esce praticamente di scena dal punto di vista se non per l'impresa francese nel 71 va in soccorso della Francia occupata dai tedeschi perché Garibaldi ha una visione che è internazionalista quindi crede molto nella libertà dei popoli che crede molto nell'obbligo che c'è in ogni democratico di spargere il proprio sangue non solo per il proprio paese ma anche per tutti quelli che lo ha fatto in Brasile lo ha fatto in Uruguay cercherà di continuare a farlo anche nella Francia occupata dei tedeschi ma dopo il 71 Garibaldi ha ancora una breve parentesi di vita politica a Roma nel 75 delle sue famose proposte per il Tevere per l'agro romano nel porto di Roma e via dicendo dopo che la figura entra ormai nel cono d'ombra della vecchiaia e lì resta ferma perché vive i suoi ultimi 6-7 anni di vita a Caprera molto venerato molto elogiato va a trovare Manzoni prima di morire va a trovare Manzoni a Milano e diventa una figura pubblica diventa un padre della patria quindi con tanta riconoscenza da parte della patria placato un po' nei suoi furori eroici degli anni della giovinezza è un simbolo anche è un simbolo del sole si inventa gli slogan il sole dell'avvenire la repubblica che è il governo degli onesti slogan bellissimi che però come dire fanno abbastanza dimenticare quello che è stato in passato o comunque o non riescono a farlo dimenticare del tutto perché è un Garibaldi diverso quindi quello che resta dopo dopo la morte di Garibaldi è questo Milier Garibaldino numerosissimo direi di veterani i quali i quali saranno ancora disponibili ci sarà tutta una tradizione Garibaldina che andrà avanti fino alla prima guerra mondiale i Garibaldini delle Argonne del 15 14-15 che entrano in guerra prima che l'Italia entri in guerra entrano in guerra come volontari anche lì al di Piazza della Francia sono l'ultima propagine di questo movimento Garibaldino dopodiché ci saranno altre figure ci saranno altre cose ma praticamente la tradizione Garibaldina si spegne con la grande guerra si spegne con la grande guerra e però salvo poi le famose brigate Garibaldi della resistenza della resistenza di Garibaldino hanno il nome insomma non ci sono più esponenti della famiglia Garibaldi a parte la figura di sante Garibaldi che sta dietro la resistenza francese ai tedeschi ma insomma questa la vicenda del Garibaldinismo è una vicenda che va avanti quindi ben oltre la morte di Garibaldi almeno fino agli anni 20 ecco allora bisognerebbe mettere a fuoco soprattutto questa realtà perché è una realtà per esempio quelli che vanno a fiume l'impresa di fiume è un'impresa in cui i Garibaldini ci sono quelli che vanno in Albania quelli che vanno in Grecia cioè oppure oppure anche oppure anche quelli che tradiscono in qualche modo che fanno il doppio gioco è un mondo variegatissimo insomma io credo che rispetto appunto alla tornare alla domanda che mi faceva Messina rispetto alla possibilità di indagare ancora su Garibaldi con la speranza di trovare qualcosa di nuovo che secondo me è del tutto vana e invece presenta interesse questa 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 umanità questa umanità Garibaldina che gli sopravvive e che va avanti ancora e la troviamo nei giornali la troviamo negli spettacoli teatrali nella letteratura si crea una letteratura Garibaldina tra l'altro nasce una letteratura Garibaldina nasce una memorialistica nasce una diari cioè ci sono tracce molto vistose di questa presenza Garibaldina è molto importante ecco forse è su questo è su questo questo terreno insomma che bisogna muoversi con qualche maggiore possibilità di dire cose nuove insomma grazie una piccola parentesi lei ha parlato di 30.000 che seguono Garibaldi non erano 50.000 dell'esercito meridionale l'esercito meridionale ha vari vari momenti no intanto quando partono sono mille va bene poi si aggiungono le spedizioni medici le spedizioni cosez varie altre spedizioni e questa man mano cresce ci sono poi i picciotti siciliani ci sono quindi gli altri volontari che vengono occupati io so che quando sono al volturno sono 30.000 Garibaldini va bene poi la cifra esatta con quella in quel momento l'organizzazione non era al top delle sue possibilità la cifra esatta non la si conosce ovviamente io credo che siamo intorno alle 30.000 forse al massimo 40.000 unità 50.000 è una cifra che non mi insomma non conosco ecco sinceramente però ripeto c'è una certa vaghezza in questo calcolo in questa statistica proprio perché proprio perché non ci sono non c'è tutta quella sovrabbondanza di studi su quello che avviene dopo Garibaldi cioè su quella appunto su questa perché perché poi la ricostruzione si potrebbe fare attraverso le domande che vengono presentate per il riconoscimento per esempio della medaglia molti di questi ottengono la medaglia per la partecipazione alla spedizione quindi c'è una documentazione che credo sia stata già sinceramente non me ne sono occupato credo che comunque sia stata già messa sotto sotto osservazione dagli storici militari insomma dagli storici del movimento Garibaldino come organizzazione militare comunque sì le cifre possono essere più o meno più o meno però siamo insomma tra 30.000 forse 50.000 io sapevo appunto 30-40.000 bene ma lei che ha curato tre volumi dell'epistolario l'epistolario è stato tutto studiato è tutto a posto non c'è niente l'epistolario ancora non è completo siamo arrivati l'ultimo volume mi sembra che arrivi al 75 abbiamo ancora sette anni di vita di Garibaldi il Garibaldi vecchio che non può più fare le sue battaglie scrive molto in compenso con una calligrafia sempre più difficile no non difficile da decimare però con una calligrafia sempre più da persona anziana quindi tremolante quindi incerta già Garibaldi però aveva una sua bella calligrafia chi lo conosce sa una calligrafia molto elegante sarei per dire no una specie di corsivo che però con la vecchiaia diventa diventa quasi una calligrafia da bambino delle elementari insomma con tutte le sue incertezze e cose allora l'epistolario ripeto è arrivato fino al 75 mancano gli ultimi sette anni ma anche lì queste sono imprese quelle degli epistolari sono imprese che non sono mai non sono mai non si possono considerare mai finite perché io stesso non faccio altro che trovare lettere di Garibaldi tra l'altro le mie ricerche io continuo a trovare che segnalo puntualmente a quelli perché io ho finito con i miei tre volumi che coprono nel periodo 64-66 e con quelli ho finito dopodiché hanno continuato altri colleghi adesso l'ultimo volume è uscito mi sembra l'anno scorso e se non sbaglio dove arriva al 70 io ce l'ho quindi glielo posso anche far vedere volendo perché basta che mi giro un attimo lo prendo e glielo faccio vedere l'ultimo volume però ecco ripeto finora finora mi sembra che sono usciti una dozzina di volumi più o meno 3, 6, 9 no forse 14 14-15 sono sono quanti volumi 14 ecco l'ultimo volume l'ultimo volume è il quindicesimo no non arriva al 75 errore arriva al 72 eccolo qua è questo qua è questo qua è l'epistolario di Giuseppe Garibaldi che copre il periodo 15 febbraio 71 31 dicembre 72 però vede è un volume in un anno è un volume molto grande quindi è bello corpulento insomma ed è il quindicesimo volume dell'epistolario grazie io ho disunsegnato tante domande perché è un'opportunità rara ma una che volevo farla assolutamente è sulla diciamo decadenza dello studio della storia dell'esorgimento nelle scuole e nelle università cioè c'è stato un po' un disinteresse per il risorgimento anche per le cattedre ce ne sono ce ne sono poche è vero o no questa cosa questo è un dato però io mi ostino a dire che è soprattutto burocratico nel senso che intanto è stata fatta una riforma dell'organizzazione degli studi storici per cui sono state soppresse tutte le cattedre come dire di complementari di quelli che una volta si chiamavano esami complementari la storia dell'età dell'illuminismo non esiste più la storia della vita culturale in Austria per esempio c'era una cattedra di storia di vita culturale in Austria non esiste più le storie intermedie sono rimasti i tre grossi bacini storia medievale moderna e contemporanea allora il risorgimento è rifluito nella storia contemporanea e quindi io negli ultimi anni del mio insegnamento non insegnavo più storia del risorgimento ma insegnavo storie contemporanee all'interno di storie contemporanee ovviamente io mi ritagliavo il mio spazio che è rimasto di storia del risorgimento quindi il problema vero è quello appunto come diceva lei di una certa di una certa di una certa disaffezione rispetto il risorgimento ha avuto sempre un cotè patriottico paranazionalistico diciamo così soprattutto negli anni venti trenta è stato inquinato inquinato spesso dalla presenza del fascismo quindi dopo la seconda guerra mondiale il risorgimento è diventato un terreno di studio a tutti gli effetti nel senso che non è più complicato con la storia della società italiana e delle sue vicende nel diciannovesimo secolo in grosso modo quindi nel periodo che va dalla fine del settecento e dalla dominazione napoleonica quindi il periodo rivoluzionario fino alla grande guerra anzi fino alla fine dello stato liberale il territorio diciamo così di studio della storia del risorgimento era quello che andava dal settecento più o meno dai primi trenta quarant'anni del settecento fino al millenovecento ventidue la fine dello stato liberale era la fine della storia del risorgimento e questo allora è vero che c'è stata quindi una diminuzione anche per esempio della presenza della disciplina di storia del risorgimento quindi dei fatti della storia del risorgimento nella manualistica delle scuole medie delle medie inferiori e superiori spesso l'ottocento viene saltato perché si corre verso il fascismo però dall'altra parte cosa c'è? c'è un fatto che mi colpisce ed è che molti studiosi anche di storia moderna e anche oltre che di storia contemporanea stanno tornando stanno tornando verso studi sull'ottocento quindi non sono più gli studi classici di risorgimento non è più la risorgimentistica di una volta però c'è una forte attenzione per i cambiamenti che avvengono nella società italiana nel corso dell'ottocento sia prima che dopo l'unità perché? perché c'è il grosso problema della presenza della chiesa c'è il grosso problema dell'attività culturale dell'attività musicale della poesia cioè succede questo fenomeno che nel corso dell'ottocento tutta l'impegno di quelli che si chiamavano allora no, si chiamano oggi gli intellettuali ma allora si chiamavano i letterati oppure gli umanisti si orienta verso che cosa? verso uno sforzo di costruzione della coscienza nazionale e quindi di cooperazione alle battaglie ideali del risorgimento ecco quindi allora questo significa che chi studia la letteratura italiana spesso si trova a che fare con il risorgimento chi studia la storia dell'arte si trova a che fare con la storia del risorgimento io sto lavorando ormai io le dicevo l'altro giorno vivo in una terra di nessuno perché mi capita più spesso di occuparmi dei rapporti tra storia dell'arte e storia del risorgimento che non della storia del risorgimento pure e semplice quindi perché? perché ci sono tanti segmenti interdisciplinari tanti incroci tra le discipline che appunto la suddivisione canonica e classica di storia del risorgimento storia moderna ormai è saltata è saltata perché proprio c'è invece ha preso il suo posto questa attenzione per la società italiana diciamo una storia sociale estesa dalla fine del settecento fino ai giorni nostri sostanzialmente quindi da questo punto di vista sono abbastanza ottimista io lo vedo perché vedo tanti tanti ma anche di altre discipline studiose di altre discipline che ogni volta ogni volta insomma spesso quando organizzano una attività di ricerca la riferiscono o in qualche modo aprono una finestra appunto sulla storia politica dell'ottocento sulla storia politica professore posso chiedere dopo Garibaldipoli e altre storie di terre di mare che cosa sta scrivendo adesso lei prima diceva Cosens e contemporaneamente a Garibaldipoli usciva anche il libro su Cosens perché ho fatto un secondo libro su Cosens la giovinezza di Cosens quindi ho voluto studiare i primi 40 anni di Cosens per portarli non portarli alla luce perché era però ci sono pagine interessanti diciamo nella vita di questo che poi sarà famoso prima il compagno di Pisacane fino a senza partecipare alla spedizione di Sapri però grande amico di Pisacane tutti e due usciti dall'Annunziatella quindi appartenenti quindi in prima battuta all'esercito borbonico e quindi ho dovuto mettere a fuoco un po' questa realtà della presenza e della formazione degli ufficiali nell'esercito borbonico che era una cosa a cui Ferdinando II teneva moltissimo quindi prima questa e poi invece la sua l'esilio a Genova e a Torino e la partecipazione cioè la conversione diciamo così dal mazzinianesimo al garibaldinismo e quindi alla monarchia ecco questo è il percorso che segue Cosens è un percorso paradigmatico nel senso che è seguito da tanti altri no comincia come Mazziniano anzi comincia prima di tutto come allievo dell'Annunziatella poi come Mazziniano in qualche modo viene preso inserito nell'organizzazione dopo la difesa di Venezia a cui partecipano nel 49 e nel 57 58 si stacca e si avvicina a Garibaldi e con Garibaldi compie il suo tragitto verso la monarchia questa è la storia di Cosens è il primo capo di stato maggiore dell'esercito italiano quello che organizza tutti i piani i piani di guerra dell'esercito nel momento in cui c'è il problema della triplice alleanza e del conflitto non dichiarato ma molto sensibile con la Francia almeno nei primi anni della triplice alleanza i piani di guerra sono tutti orientati verso il confine francese quello che non si guarda la triplice alleanza non rappresenta anche se c'è sempre diffidenza verso gli alleati austriaci però tutto il dispositivo di attacco e difesa contemporaneamente si sposta verso il confine occidentale le Alpi del Piemonte quella zona lì molto interessante i suoi studi molto affascinanti il covid ci ha dato una mano perché costringendoci a stare in casa ci ha spinto a lavorare l'unica distrazione che avevamo era quella non era facile procurarsene altre tranne quelle offerte dalla dottoressa cioni quando ci provoca per le sue presentazioni che ci fanno sempre molto piacere perché sono interessanti la discussione sulla storia sulla storia italiana ma anche su altri temi la letteratura la pittura la musica tutto quello che è l'attività umanistica è sempre una discussione che ha una sua che ha un suo perché sicuramente ma che ha una sua vivacità perché poi mette a confronto le interpretazioni che sono sempre molteplici cioè non è mai univoca la lettura di fenomeni appunto come quello del garibaldinismo della partecipazione dell'Italia alla prima la seconda guerra mondiale sono fenomeni che suscitano passione e anche interesse non c'è niente da fare le trasmissioni che fa Rai Storia hanno un loro perché proprio in questa curiosità che si è sviluppata negli italiani di conoscere il loro passato proprio a lungo raggio dall'altro arrivando fino all'età romana e anche prima e anche prima perché ormai si si lavora in quest'ottica di non dividere la storia a pezzetti o a cassettini come si diceva una volta ma di considerarla come un tutt'uno certo con le sue differenze ovviamente posso facci una domanda Giuseppe sì bevo un attimo Giuseppe lo sa che io ci siamo conosciuti credo io sono andata da lui che insegnava storia del risorgimento ero addovane studentessa della sapienza e gli ho detto io sono innamorata di Garibaldi una cosa così insomma come se io glielo potessi come se io glielo potessi presentare no? sì ecco e allora ultimamente ho trovato in questo archivio di San Pietro Burgo perché mi sono occupata di dire Alexander Bieserowski come ovviamente letterato ma dei suoi articoli su risorgimento e ho trovato che lui raccoglieva tutti i canti dedicati a Garibaldi di Garibaldi tutte le varianti regionali e registrava anche quella che lui chiamava letteratura non scritta cioè tornelli dedicati a Garibaldi canzoncine che sentiva per strada eccetera ci sono cerche su questo in italiano oppure questa può essere una documentazione che potrebbe servire a completare una ricetta perché non lo so sì c'è c'è tutta una se è andata alla discoteca di Stato per esempio la discoteca di Stato ci sono molte registrazioni che riguardano proprio questa cultura popolare che si esprime che è la cultura appunto che viene dal basso non è la cultura alta dei grandi scritti non è Mamelli insomma non è non è Abba ma sono sono gli anonimi siciliani che improvvisano lo stornello che improvvisano la canzoncina che improvvisano la poesiola e questo materiale che viene raccolto soprattutto dagli istituti etnografici perché questo fa parte appunto di quella cultura diffusa che non lascia spesso tracce scritte ci sono ricercatori che o perlomeno quando ero giovane io c'erano ricercatori che alla scuola di Diego Cartilla è stato un grande studioso di storia popolare di storia della musica popolare intervistando gli anziani gli anziani degli anni 40 50 che quindi da bambini avevano sentito ancora e andavano a intervistarli si facevano e cercavano di ricostruire questa produzione questa produzione anonima in genere anonima di stornelli poi c'è anche quella colta un poeta come Dall'Ongaro che ha fatto un sacco di queste poesie patriottiche e conosciuto i suoi bei libri in cui manca lo stesso giusti molta della poesia è orientata proprio verso e funziona da sostegno a quella che è la divulgazione del patriottismo ottocentesco ma invece poi questa letteratura bassa chiamiamola così che poi non è per niente bassa ma insomma è una letteratura che viene dal basso è una letteratura che appunto non è scritta non è scritta quindi quello che sei quello che si è ricavato si è ricavato attraverso queste ricerche che sono state fatte successivamente e ripeto sono documentate e sono ancora tra l'altro si possono sentire nella loro esecuzione andando alla discoteca di Stato oppure visitando il sito della discoteca di Stato sono sicuro che si trova questo materiale sul quale poi esistono anche tante tante cataloghi per esempio interi interi registri registri che appunto riportano regione per regione qual è il contributo della singola regione al patriottismo diciamo così attraverso queste fonti queste fonti popolari io a questo punto vi ringrazio vi saluto vi ringrazio ringrazio Dino vi ringrazio Giuseppe per me è sempre un grande piacere insomma avervi ospiti e spero presto di trovare un'altra occasione per rivederci tutti insieme Garibaldipoli altre storie terrenale è una bellissima che consiglio a tutti Garibaldipoli e non Garibaldopoli come ho detto prima perché mi ero chissato su Alessandropoli scusatemi nonché l'avevo sbagliato Garibaldipoli come titolo è chiaro che vuole essere anche un'allusione a questo uso del suffisso poli che negli anni della fine della prima repubblica ci hanno abituato a conoscere per cui c'è Tantentopoli poi c'è Magistratopoli poi c'è c'è sempre un poli dappertutto calciopoli la storia d'Italia quindi perché non metterci anche Garibaldipoli che però non ha questa non ha questa cosa come dire questo cotè di politica di politica truffaldina ha qualcosa anche quello ma insomma è diversa è una cosa diversa quindi è anche divertente io vi ringrazio per le cose che avete detto mi ha fatto molto piacere prossimo lavoro grazie anche a voi perché mi avete dato anche degli ottimi spunti con lei e con Paola grazie 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 a tutti a presto a presto grazie grazie arrivederci salutiamo qua grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti